Sì che cos'è? Che se io adesso chiamo un milanese se la vieno a prendere per 10.000 euro? Ma io non mi guardare così, io non è che voglio fumarmi con te. Lo dò mio marito ha lavorato vent'anni, la macchina più bella che abbiamo tenuto è stata un'alfa sub, ai tempi. Io non voglio fare l'antipatica, ma questi soldi non ci stanno. Eppure se ci stessero, guarda bene che ci sono cose più importanti. Ma io non mi ha detto che avresti necessità impellenti, che ti serve un milanese, vedi? Sì. Sì che cos'è? Sì. Sì. Sì.